ciao io sono gian e ti do il benvenuto il mio canale di cucina oggi recensirò due prodotti molto conosciuti nella cucina italiana il riso carnaroli e la polenta voglio precisare che mi sono offerto spontaneamente e gratuitamente per pubblicizzare questi due prodotti coltivati e venduti dall'azienda agricola berneri nata nel lontano 1910 l'azienda agricola berneri è situata a zerbo un paesino della provincia di pavia immerso dei vasti campi coltivati da riso e mais berneri produce un ottimo riso e un'ottima polenta entrambi prodotti di qualità coltivati nei terreni adiacenti alle rive del po nei territori di zerbo spessa e san zenone al po in provincia di pavia le terre di coltivazione della valle del po sono fra le migliori zone di produzione di riso carnaroli e la farina di mais per la realizzazione della tradizionale polenta il metodo di coltivazione del riso berneri e della polenta rispettano l'ambiente e i tempi del ciclo naturale di maturazione la ricchezza e la distribuzione capillare delle acque di irrigazione controllata e curata da tempi secolari fanno di questa zona una fra le migliori terre per la produzione del riso carnaroli e della farina di mais per acquistare i prodotti dell'azienda agricola berneri potete recarvi in via roma 20 a zerbo in provincia di pavia potete contattarli telefonicamente allo 0382 79 065 o scrivergli un'email al info chiocciola agricola berneri punto it